C'è profumo di affari nell'aria! Un professionista che sa il fatto suo. Siamo qui per vendere lubrificanti, lubrificanti industriali! Non siamo qui per salvare anime! Un collega che le ha viste tutte. Niente che tu possa dire o fare potrebbe minimamente imbarazzarmi. E un ragazzo che non ne sa un accidente. Credo sia importante che la gente sappia in cosa credi. È onesto. Ecco, è questo il problema. Sono in missione. Alla profonda esperienza religiosa che si vive nel far bene a un lavoro. Alla nostra salute. Amen! Hanno sei ore. Sorpresa! Per fare la vendita della loro vita. Me ne sono andate in cerca del grande Kahuna! Il cosa? Il vincitore del premio Oscar, Kevin Spacey. Non ci posso credere, ce lo siamo fatti scappare! Danny DeVito. Mi ha telefonato? Ho parlato con la sua segretaria. Peter Facinelli. Direi di mandare Bob. Stai mettendo il nostro futuro nelle mani di un ragazzino. Ti do la sensazione di essere un uomo particolarmente religioso? No, neanche per sogno. Allora perché sono colto da un irresistibile desiderio di pregare? I cervelli della nostra azienda. Io? Esattamente. Lo vuoi capire? Non è impossibile! The Big Kahuna. Wow. Wow riassume abbastanza bene.